A livello regionale abbiamo qualche novità da voler comunicare alla cittadinanza? Purtroppo le novità non sono molto allegre perché si è constatato che il governo Musumeci dopo due anni si è accorto di aver fatto un ulteriore buco di 2 miliardi di euro. Ora si va avanti dicendo che è sempre colpa dell'amministrazione precedente, ma scusami, dopo due anni ti rendi conto che hai un buco sommando i 2 miliardi di 7 miliardi e mezzo di euro? L'unica cosa che abbiamo fatto e siamo riusciti ad ottenere con l'ultimo documento collegato alla finanziaria ed è un emendamento al collegato che ha come primo firmatario il sottoscritto è finalmente aver tracciato un percorso di stabilizzazione per i lavoratori cosiddetti ASU. Quindi in questa norma il governo regionale e l'assemblea regionale siciliana prendono impegni a che questi precari vengano sistemati e stabilizzati entro l'ultimo 2020. Se le amministrazioni di appartenenza non dovessero far partire l'iter di stabilizzazione in ottemperanza agirà direttamente l'assessorato al lavoro. Quindi è una cosa importante, un obiettivo importante, centrato tra l'altro in una norma che ormai è stata svuotata di tutti i contenuti finanziari ed economici perché come ti dicevo è stato acclarato proprio giorni fa che c'è un ulteriore buco di 2 miliardi di euro. Quindi nella paluda siamo riusciti a far nascere un piccolo fiore che è quello della finalmente stabilizzazione dei lavoratori ASU che dopo 25 anni di lavoro nero legalizzato finalmente possono cominciare a sperare. Ci sono delle differenze tra comuni in dissesto finanziario oppure no? No, diciamo che le differenze stanno meramente nella struttura organica dell'ente nel senso che chi è in dissesto o chi è in piano di recupero finanziario sarà tenuto ugualmente a stabilizzare e tenendo conto però del PMF ha bisogno di personale, nel senso che se tu hai migliaia di lavoratori in pancia non puoi andare avanti ma viene garantita la possibilità di andare in mobilità presso altri enti che hanno bisogno. Sono anche enti regionali come le ASP, i beni culturali e tutti gli altri uffici della regione. Quindi ci sarà secondo me molto spazio anche perché al netto della quota 100 e dell'invecchiamento progressivo degli impiegati e dei funzionari stiamo assistendo a una desertificazione di tutti gli enti, di tutti gli uffici e servizi comunali ed extracomunali. E nel caso del comune di Favara, nella fattispecie, come cambieranno le cose? Io ti faccio un esempio, io sono un dipendente comunale in aspettativa per mandato politico. Quando sono entrato io al comune, quindi più di 20 anni fa, eravamo a contratto con contratto a tempo pieno indeterminato più di 200. Ora sono meno di 100, quindi 97-98, quindi questo svuotamento non riesce a garantire, il problema di cui parlavamo poco fa, i servizi essenziali. Quindi vuoi o non vuoi, in un modo o nell'altro questi lavoratori dovranno essere assorbiti e stabilizzati anche perché il tempo passa e questi stanno raggiungendo un'età tale quasi da avvicinarsi alla pensione e rischiano di innescare il meccanismo di pensionamento e quindi di svuotamento di cui ti parlavo poco fa. Quindi è un cane che si morde la coda. Comunque secondo me ci sarà molto spazio per poter stabilizzare questo tipo di lavoratori sia i cosiddetti LSU o contrattisti che gli ASU che sono un poco più giovani e riescono, così come gli LSU contrattisti, a garantire i servizi veramente essenziali di un comune o di un ente senza i quali non so come si potrebbe andare avanti.